La notizia dello spaventoso incendio della vegetazione di un preziosissimo pezzo di territorio lungo la litoranea adriatica, a poche centinaia di metri dalla riserva delle Cesine, area WWF, ci amareggia. È quanto dichiara Mino Borracino, consigliere regionale di Liberi e Uguali. Una zona a protezione speciale, sito di interesse comunitario, purtroppo è andata distrutta assieme alla moltitudine di specie protette rarissime che in questo periodo sono in riproduzione, come le testugini di palude e gli uccelli migratori che si avvicendano tra partenze ed arrivi. Un disastro naturale che con una regolare attività di prevenzione poteva essere evitato. Se fosse stato prorogato il servizio antincendio degli operai ARIF, interrotto prematuramente lo scorso 15 settembre, infatti, forse oggi non staremmo a parlare di questo ennesimo disastro biologico ed ambientale che ha distrutto un intero ecosistema. Con le attività opportunamente programmate di prevenzione, monitoraggio e manutenzione garantite da questi lavoratori, non si sarebbero lasciati scoperti servizi importanti nel pieno della stagione, tutto sommato ancora estiva. Anche lo scorso venerdì 28 settembre avevamo sollecitato la direzione dell'ARIF, l'agenzia regionale che si occupa delle attività irrigue e forestali, a fornire risposte circa la possibilità di mettere a disposizione altri fondi per la prosecuzione del servizio di prevenzione incendi ed irriguo. Purtroppo, conclude con amarezza Borracino, non è giunta nessuna risposta.